questo invece è un protégé grenadilla rose gold mi piace molto questo rose gold da un non so che di stylish come si dice in america e mi piace molto il suono di questo strumento è molto profondo e soprattutto a un prezzo ragionevole e questa è una cosa importante did you like it yes